In primo piano le vertense che ancora colpiscono il settore metalmeccanico, ma a Camerino il tema centrale del congresso regionale della FIMCISL è il futuro delle giovani generazioni e dei territori terremotati. Pierpaolo Rivalta. La realtà di Tecno Wind nel Fabrianese, la realtà di Gergo Group nel Maceratese, il gruppo Ragaini nell'Osimano, che hanno una situazione di crisi e di difficoltà non indifferente. Mille posti di lavoro a rischio, tre vertenze nelle Marche che anche in queste ore testimoniano le difficoltà dei metalmeccanici. I 200 delegati della FIMCISL Marche non a caso parlano di ricostruire il futuro. Un tema da declinare su più fronti e dalle fabbriche si esce ad abbracciare tutto il territorio devastato dal terremoto. Per far partire da qui una voce di riscatto, una voce che grida l'importanza di fare quanto prima ma quella ricostruzione che eviti anche che popolazioni e comunità del luogo lasciano scoperte queste zone bellissime. È proprio per questo che bisogna intervenire quanto prima. Infine giovani in formazione permanente, il congresso si tiene nel polo universitario, forte anche delle norme sul diritto soggettivo alla formazione inserita nel contratto nazionale. Ma l'impegno della FIMCISL in quest'area non finisce qui. Il 29 invece di aprile, sabato prossimo, per il secondo anno realizzeremo il nostro primo maggio diverso. Un modo diverso di festeggiare la festa del lavoro e lo realizzeremo proprio in questo territorio, a Muccia, provincia di Macerata, pochissimi chilometri da qua, assieme a Next dell'economista Leonardo Becchetti. E' una festa del lavoro in cui riportiamo il tema del lavoro delle imprese, soprattutto in un territorio ferito dal sisma, al centro dell'attività del sindacato.